Il primo impatto con il Master è stato sicuramente positivo, ho avuto subito la possibilità di confrontarmi con gli altri colleghi, di apprendere molto anche da quelli che sono i talenti e le competenze degli altri. Mi aspettavo di crescere molto non soltanto dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano, di apprendere molto dagli altri confrontandomi, capire effettivamente qual era il senso dell'innovazione, come potevamo creare questo motore di cambiamento direttamente entrando in azienda, quindi come far camminare le nostre idee, proattività come capacità che ho appreso di porsi in maniera dinamica anche nel rapporto con gli altri e quindi spero anche nel mercato del lavoro futuro. Amicizie, quindi la possibilità che abbiamo avuto di sviluppare relazioni sociali molto solide. Ho imparato a riconoscere quelli che sono i talenti degli altri, soprattutto attraverso il team working. La lealtà e la correttezza sicuramente nei confronti dei partecipanti. Un'aquila, perché è in grado magari di solvolare dall'alto, vedere appunto quali sono i talenti, quali sono le migliori aziende e poi fiondarsi appunto sulle prede. Beh, il Palermo chiaramente, perché è la migliore squadra in assoluto e perché siamo tanti siciliani e padernitani qui a Stresa. Mica squadrone che avevamo quest'anno, chi dici, un mille di niente. Qual è il tuo sogno professionale? Beh, sicuramente io passo dopo passo vorrei con molta umiltà entrare in azienda, magari tra una decina d'anni perché no diventare direttore marketing, speriamo bene. Grazie a tutti.